Amici che credete nell'esistenza degli alieni, benvenuti su Top Off. Siamo soli nell'universo? Questa è una domanda che milioni di persone si pongono ogni giorno. Ma non siamo solamente noi, le persone normali, a cercare di dare una risposta. Ci sono anche le nostre amatissime celebrità. Tenete pronte i like, perché le prossime 5 celebrità ci diranno cosa pensano degli extraterrestri. William Shantner è famosissimo, una celebrità idolatrata soprattutto per le sue serie TV e soprattutto per essere il Capitano Kirk in Star Trek. E quindi non c'è da stupirsi neanche un po' se la nostra celebrità sostiene che gli extraterrestri vivono e sono già qui tra noi. Nei suoi famosissimi telefilmi il Capitano ha sicuramente incontrato numerose specie di alieni. Ma quello che è più scandaloso è che lui sostiene che questi alieni sanno dove siamo e vivono in mezzo a noi, solo che sono mimetizzati. Ed è anche convinto che alcuni di questi alieni possano ricoprire alcuni ruoli molto importanti della società. Ma ora facciamo un saltino nel telefilm La Tata, dove incontriamo Francesca Cacace, in arte Fran Descher. Lei non è diventata famosa solo per la sua serie TV, ma è anche famosa perché sostiene che gli alieni esistono e molti di loro ci hanno provato con lei. La nostra attrice è fermamente convinta che ci siano stati degli alieni che hanno provato non solo a sedurla, ma anche a rapirla. Un'esperienza incredibile e spaventosa, ma al posto di non dirlo a nessuno, lei ha voluto raccontare la sua verità. Una notizia che ha fatto scalpore, ma proprio grazie a questa notizia lei ha conosciuto il suo attuale marito ed è stato subito amore a prima vista. Ma forse voi non vi fidate delle parole di alcune famosissime celebrità, ma vi fiderete molto di più di quello che dice un personaggio molto importante, molto potente come il presidente degli Stati Uniti, Ronald Reagan. Lui è stato uno dei primi presidenti ad aprire la mente e soprattutto a parlare ad un grandissimo convegno della possibilità che gli alieni siano già qui tra noi. Un discorso che ha traumatizzato centinaia di potenze mondiali, ma lui è un fermo sostenitore della sua teoria e anzi si vocifera che lui sia stato uno dei primi presidenti a prendere diretto contatto con forme di vita extraterrestre. Ma magari voi vi fidate solo delle parole di uno scienziato ed ecco che a parlare è il famosissimo e il brillantissimo Stephen Hawking. Infatti, secondo lo scienziato, noi non presentiamo una minaccia per gli alieni perché siamo tecnologicamente arrettati. Ma magari un giorno potremmo espanderci, potremmo uscire liberamente dal pianeta Terra ed ecco che secondo Hawking arriverà il momento in cui gli umani e gli alieni inizieranno una sanguinosa guerra. Ma chiudiamo la classifica con Tom Cruise e tutti noi sappiamo molto bene che lui adora girare film action dove al suo interno ci sono gli alieni. Ma la nostra sexy celebrità non si ferma qui perché è molto conosciuta anche la religione di Tom Cruise e cioè la famosa Scientology. E sembra che proprio grazie a questa religione sia stato messo al corrente di alcuni incredibili segreti come la presenza di vita extraterrestre qui sul pianeta Terra. Ma al posto di vedere gli alieni come i famosissimi o mini verni, secondo Tom esistono degli alieni che vivono proprio in forma spirituale dentro ogni essere umano e la sua missione è quello di salvare tutte queste povere anime. Amici, cosa ne pensate degli alieni e soprattutto delle rivelazioni di queste famosissime celebrità? Scrivete, commentate e ci vediamo in un prossimo mega video. Ciao!